ciao ragazzi benvenuti finalmente in questo nuovissimo video come potete vedere sono veramente euforico in compagnia di mia sorella che è sempre inutile però oggi come avrete capito da titolo e copertina siamo qui per rompere il microfono per fare l'unboxing di lui iphone 12 pro max da 128 giga perché sono povero però mamma mia allora io direi di non perdere altro tempo lanciamo la sigla e ci vediamo dopo allora niente vuoi fare una cosa vuoi prendere il tuo magico telefono e fare una ripresa mentre l'unboxiamo da vicino brava brava muoviti ok no no tu lo farai la faccio brava brava velocemente stai registrando in 4k a 60 fps sta scritto qua vedi tutto a posto pulisci la fotocamera che c'è il burro sopra perfetto mi piace questa cosa mi piace sei pronta lo fai di lato magari grazie 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 non mi posso calmare le sono veramente euforico sì muoviti ok in attimo solo che è dura no non è no no è bruttissimo non devi parlare mentre faccio questa cosa silenzio ah madonna da quanto tempo che non unboxavo un iphone la scatola è bellissima molto sottile perché non c'è il caricatore esatto brava alzati perché non c'è il caricatore in confezione però vabbè a noi poco importa perché abbiamo tutto andiamo a sollevare ma allora ragazzi perdonate mi sembrerò un apple fag però veramente sono contentissimo ed è spettacolare la cosa più bella lo sai qual è lo solleviamo è bello pesantuccio guarda qua hanno fatto la pellicola così con questo cartoncino con sopra indicati silenzioso volume su volume giù accensione qua addirittura anche il caricatore non so perché l'hanno fatto ma è carino no probabilmente l'hanno fatto per sempre la questione ecologia perché non è più classica ma è cartoncino esattamente allora andiamo vieni vieni inquadra e se fai silenzio allora questo questo è stato molto satisfying questo molto molto madonna e mi scarpe l'ho fatto più l'uomo madonna mamma mia mamma mia guardalo guarda ammiralo lo sto ammirando cioè ma ti rendi conto molto spettacolare proprio con le mie di tazze mettiamo un attimo da parte il telefono lo mettiamo così perché guarda che spettacolo abbiamo in confezione solamente il cavo di ricarica usb c lightning e il manualino con il cazzimbocchio per togliere la sim e una sola sticker mela tutto a posto no tu non l'hai avuto perché l'hai preso ricondizionato da swappi vi invito ad andare a vedere il video sul canale dello scherzo che ho fatto a mia sorella per quanto riguarda il suo telefono spoiler non vale perfetto ragazzi quindi ragazzi io direi di inserire la sim e procedere appunto con la configurazione che non vi farò vedere ovviamente quindi niente potremmo anche già concludere qui questo video vi avrò fatto vedere bene il telefono nei dettagli non con le riprese che ha fatto lei con le riprese che farò io dopo quindi niente ragazzi per questo video brevissimo è tutto spero che vi sia piaciuto l'avranno già portato in miliardi l'unboxing di questo iphone perché purtroppo sì sono riuscito a prenderlo al day one ma la maggior parte dei creator su youtube l'hanno avuto in anteprima io non sono ancora tra quelli quindi se deciro però niente vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video commentate condividete iscrivetevi al canale seguitemi su instagram seguite anche lei che oggi ha fatto la nostra schiava valletta come al solito e noi ci vediamo come al solito in un prossimo video ciao ragazzi la mia presenza è molto utile lo sai che cosa vuoi fare di utile? sto a parare registrazione grazie a parare registrazione grazie